Erano 43 anni, Dio bono che questi non facevano niente a Firenze, era 43 anni, dove arriva 43, 42, si 43, saranno 47 al minimo, che non facevano niente questi a Firenze, niente, non avevano mai vinto questi a Firenze. Complimenti, l'abbiamo persa, l'abbiamo persa, meritatamente, meritatamente, ho sentito anche i teleronisti di Dazon dire, eh ma la Fiorentina nel secondo tempo è entrata con un altro piglio, porca troia, pensate se si entrava peggio, mandatevene a fanculo davvero, una partita inguardabile, il primo tempo una roba veramente aberrante che se non, se finiva, finiva 1-0, se finiva 3-0, 3-0 perché Dugou si sono rischiati di prendere, uno su una traversa appunto, la presa da Sec e l'altro uguale, sempre Sec, vaffanculo, Sec, Sec, capito, Sec, Sec, capito, non Sec, ok, non c'è bisogno di commentare altro, finiva 3-0, non aveva rubato niente nessuno. Tra l'altro gol arrivato su un errore di Amrabat, complimenti veramente perché oggi tra errori individuali e italiano che tutte le volte va contro Juric, continua sempre ad attuare la sua solita tattica del cazzo, della difesa alta, ma sempre Juric giustamente glielo mette nel culo, ancora non l'abbiamo imparato, complimenti, complimenti perché comunque dopo l'1-0 segnare a Juric è stato facile, effettivamente, visto che il Torino non ha una squadra fisica, visto che il Torino non ti marca uomo, visto che il Torino comunque non riesce a stare sui tuoi uomini perché la Fiorentina riusciva sempre a saltare l'uomo, chiaramente, il conè oggi incontenibile, qua me praticamente era una roccia, non veniva mai preso in anticipo da dopo, buongiorno e tutta quella bailame di gente che ci hanno in difesa loro, quindi è stata una partita veramente ottima, meravigliosa, un 1-0 veramente grandioso, io commento questa partita con imbarazzante, ma non tanto perché abbiamo perso 1-0, ma perché abbiamo perso dall'inizio, di base, dall'inizio, dall'inizio, perché io non sopporto una cosa, se te allenatore, perché idee di tattica, contro qualche allenatore che attua una tattica anti-gioco d'italiano, si può già da persa sta partita, si può già da persa, perché se te stai con la difesa alta, come ti ha visto nel primo tempo, tu chiappi gol, poi i tuoi giocatori sono degli idioti perché non riescano a sartare ragazzi, oggi Icone inguardabile, non ha fatto niente, ti marcavano a uomo, prova a cambiare qualcosa, cambia qualcosa, prova a far fare a qualcuno qualche inserimento, prova a stare un pochino più basso e ripartire con più persone insieme, hai visto gli ultimi 20 minuti se erano 4 in area, se erano stati più pericolosi, ma perché, ma perché bisogna sempre svegliarsi alla fine, sempre, sempre tutte le volte si va sotto e si sveglia alla fine, rispetto magari alla partita in Monza, dove si era fatto un gran primo tempo e poi in secondo tempo, porca miseria, si era bello di andare a letto, da qui siamo andati a letto direttamente, non siamo mai entrati in campo, non siamo mai entrati in campo, mai, a parte il tiro di Guameni il primo tempo e il tiro di Barak, nel secondo tempo, parato da Milinkovic, Savic, il resto non si è fatto niente, 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 niente non si è fatto, non si è fatto niente, non si è fatto, non si è fatto niente, sconfitta meritatissima, complimenti ai Torino che arriva a Firenze e dai 76 che non vinceva, dai 76 che non vinceva a Firenze e Torino, è dai 76 che non vinceva a Firenze e Torino, è dai 76 che non vinceva, è dai 76 che non vinceva, dai 76, è 76, quindi c'è da riaggiornare le statistiche, dai 76 che non vinceva il Torino a Firenze, ok, grande, questa mentalità e con questa partita di taggianato oggi, con questa formazione ti ha messo in campo, che va bene, l'è anche limitato dal fatto che ti manca diversa gente, ma con queste idee di gioco, i quarti non li superi, non li superi in Coppa Italia, perché mi sembra che già ci hanno fatto un favore e la Juventus l'è andata sotto di noi e tanto domani sarà di nuovo sopra noi, quindi non si può neanche scherzare, non si può nemmeno dire chi è che rompe gli oglioni indietro, ale la Juventus, no perché se lo dici Diobono ti prenderanno per il culo, giustamente, visto che fai schifo e non fai neanche mezzo punto, per il resto della tua vita. Io ragazzi ve lo giuro stasera c'ho un veleno, c'ho un veleno addosso incredibile, incredibile, voi che siete andati allo stadio, che vi avete cantato per 97 minuti, che vi avete preso la pioggia per 97 minuti e anche di più perché giustamente ci siete arrivati, non è che ci siete spawnati lì sul posto a caso, siete i veri eroi di stasera, siete i veri eroi di stasera, lo stadio ragazzi della Fiorentina è un qualcosa di clamoroso, i tifosi sono un qualcosa di clamoroso perché vedere una prestazione del genere come quella di stasera è imbarazzante da parte di tutti, a parte uno o due, domani si fanno tra l'altro le pagelle sul secondo canale, quindi lo trovate in descrizione non dico altro, il resto una roba aberrante e imbarazzante, i tifosi della Fiorentina sono un qualcosa di spettacolare, perché il resto fischierebbero di un modo, poi si fiscano e finire la partita perché vussiate delle merde, ma quando c'è da incitare per 97 minuti ragazzi venite a Firenze perché quello ve lo posso assiurare, non sentirete mai lo stadio in silenzio, basta, io non voglio di altro, stasera mi gira troppo l'olione, bel sabato sera, complimenti, grandi, grande fenomeni, grazie, grazie, grandissimo, grandi fenomeni, complimenti.